Ben ritrovati a Camera di Commercio News. Oggi parliamo di Europa. La Camera di Commercio di Torino fa parte della rete EEN, Enterprise Europe Network, creata dalla Commissione Europea per supportare l'attività imprenditoriale delle imprese europee, in particolare delle piccole e medie imprese. Vediamo. La rete EEN, Enterprise Europe Network, si articola in circa 600 punti di contatto, organizzati in consorzi in oltre 50 paesi. Il consorzio ALP è il punto di contatto per il Nord-Ovest Italia ed è composto per il Piemonte dalla Camera di Commercio di Torino come coordinatore, da Union Camere Piemonte, Confindustria Piemonte e Fondazione Torino Wireless. L'obiettivo della rete è quello di rendere visibili le potenzialità delle imprese locali nell'ambito dei network tecnologici e commerciali europei. A Torino le piccole e medie imprese ricevono dalla Camera di Commercio informazioni e assistenza su temi comunitari e possono partecipare gratuitamente ai programmi europei ed incontri B2B e brokeraggi, spesso in concomitanza con grandi fiere settoriali. Inoltre possono ricevere un servizio di analisi dell'impatto dell'innovazione sui principali processi aziendali. Se poi avete una tecnologia da proporre o state cercando un partner per ideare un nuovo articolo o ancora state cercando un distributore estero per il vostro prodotto di punta, potete consultare online ogni settimana molte notizie, vere e proprie occasioni di scambio di tecnologie. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.